Ci siamo, il pezzo è cotto e mangiato, quindi non dico altro, vediamo che cucinano. Ecco a voi, cotto e mangiato. Buonasera a tutti, sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Se me lo metti nell'orecchio non riesco a fare niente. Sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo riso alla birra, che piace molto a mio marito. Sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Dicevo, prepareremo... Sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Prepareremo il riso alla birra. Le uova. Le uova dopo. Allora, prendiamo una pentola, un tegame, una pentola... Sì. Una pentola e ci mettiamo dei pomodori. Sono peperoni. Sono pomodori. Sono quelli piccoli. Sono pomodori. Sono peperoni. Sono pomodori. Vabbè, sono fragole. Ma, no, aspetta, se mi scrivete pomodori, questi sono pomodori. Vabbè, sì, sono pomodori. Dicevo, aggiungiamo l'olio extravergine, lo mettiamo in grande quantità, tipo tutta la bottiglia. È troppo, eleva. Diciamo niente. Prendiamo un altro tegame e prendiamo un po' di pane e pomodoro. Ok, sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Ora prendiamo un cortello. Una mezzaluna quella. Una mezzaluna. E tagliamo le verdure a pezzettini minuschi. Aia! Tu me lava le mani. Sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Hai capito che hai cucinato. Ora aggiungiamo pezzettini di carne, diciamo tre, due, e li inforniamo. Le uova, le uova. Le uova dopo. Metti le uova. Mettiamo due uova. E inforniamo. E inforniamo. Dopodiché aspettiamo dieci minuti e nel frattempo tagliamo altri peperoni. Tagliamo altri. Sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Tagliamo le cipolle. Le cipolle. Ma ci ha messo la birra. Dopo ce la metto. Ma come dopo? Adesso ce la devi mettere. Le cipolle. E leviamo il nostro piatto dal forno. A birra ce devi mettere. Mettiamoci la birra, un buon goccetto di birra, un buon goccetto di birra e la beviamo. Sono Benedetta Parodi. Oddio l'ho uccisa. Mi ha fatto. Sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Era Benedetta Parodi. Vabbè tanto ormai se il naso se li fa così. E il naso se li fa così dai su. Un attimo ci fanno pure in televisione e rifanno il naso. Adesso prepariamo, beviamo la birra. Ci ha messo le uova. Dopo le uova. E dai metticela. La birra. E poi beviamo altra birra. Birra! Altra birra. E hanno finito? E inforniamo. Hai fatto? E inforniamo! Sì, vabbè io me ne vado. Ciao. Come stai? Ah, io? Abbiamo i segni delle uova. Questo è il vero teatro. Abbiamo i segni delle uova.